Adesso mi concentro un po' sul collo Poi lo tagliate Ora pensate che ci sia qualcuno a farvi questo massaggio Dopo una giornata di lavoro magari davanti al computer O se avete un lavoro in cui si fa fatica Si fa un lavoro fisico Ancora pezzo E' sempre bello tornare Massaggiare la schiena Dopo il passo successivo direttamente a crollare E' sempre bello tornare a letto Che insomma bisogna anche cenare Ok 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 Io ho relativamente la sfortuna di essere quella che fai massaggio alla amici. Adesso finiamo sempre con questo, finisco il massaggio con un po' di pressione fatta con questo cicillo qui. In realtà a voi magari sembrerà anche un po' dei segni che lasciano, perché io stia pregando tanta pressione, in realtà la pressione è veramente poca. E andiamo in fine un po' con il rollo. Proviamolo. Questo sarebbe fatto per le mani e per i piedi. Infatti l'ho provato a mettere sotto la pianta dei piedi, è spettacolare, è veramente gustoso. Ma io sono bellissima. Ok. Allora direi che anche qui è ora di abbassare le luci. e mandarvi la buonanotte con ancora un po' di massaggio con il rollo. e ho un po' anche un po' di viso al tricolo. Un po' sul collo. Buonanotte. Buonanotte. buonanotte sogni d'oro good night sweet dreams buonas nocce dulce sueño buon noy buonanotte che li spera